Per un calciatore professionista l'infortunio è un rischio preventivato ma le reazioni e problemi fisici più o meno gravi possono essere di diverso tipo. Nei casi migliori il giocatore decide di lottare e lavorare duro pur sapendo che con ogni probabilità il suo percorso sarà condizionato da quel danno che si è procurato sul terreno di gioco. Nel video di oggi vedremo 5 casi di questo tipo. Apriamo questa top con l'ultimo giocatore in ordine di tempo ad essersi infortunato, una stangata recente, parliamo di Goulam del Napoli che nella partita contro il Bologna al Diego Armando Maradona ha subito la rottura del crociato per la seconda volta dal suo prodo in azzurro. Si tratta del terzo infortunio al ginocchio per l'esterno di Gattuso. Il franco algerino cresciuto al Saint-Etienne è arrivato alla corte di De Laurentiis come terzino di grande talento e prospettiva nell'inverno del 2014. Alla guida del Napoli c'è Rafa Benitez e con lui conquista subito un posto da titolare aiutando i partenopei a vincere la Coppa Italia e a raggiungere il terzo posto in Serie A. La prima mezza stagione in azzurra è andata la grande per lui come del resto le successive tre agli ordini di Sarri e Ancelotti, ma nell'edizione di Champions 2017-2018 in una partita contro il Manchester City nella fase a gruppi subisce la sua prima rottura del legamento crociato al ginocchio. Un incidente che ha condizionato i suoi ultimi anni a Napoli, che aggiunta la rottura trasversale della rotula dello stesso ginocchio destro avvenuta durante un allenamento nel febbraio del 2018 gli ha fatto perdere parecchi mesi e nelle ultime stagioni non ha mai superato le 20 presenze annuali. Ma il Napoli ha voluto comunque puntare su di lui cedendo alle tentazioni di mercato e il suo rilancio graduale nelle rotazioni di Gattuso ne ha la dimostrazione, ma per la terza volta si deve rendere al suo destino poco fortunato. È ancora presto per dirlo, ma un infortunio del genere alla soglia dei 30 anni condizionerà ancora la carriera di quello che poteva essere un esterno sinistro dal futuro molto ambizioso. Poco più di dieci anni fa il calcio tedesco vede l'esplosione definitiva di Marco Reus con la maglia del Borussia Mönchengladbach, che comincia ad indossare nel 2009, dopo tre stagioni nelle divisioni minori con il Rothweiss Allen. È cresciuto nelle giovanini del Borussia Dortmund, la squadra della sua città, dove decide di tornare nel 2012 per continuare la sua ascesa nel calcio che conta. Ovviamente accompagnato dalla volontà di giocare con un club in grado di lottare per il titolo di Bundes e che gli avrebbe quindi permesso di mettersi in mostra sul palcoscenico europeo. Le sue prime stagioni a Dortmund sono di altissimo livello, sono annate pazzesche in cui si avvicina sempre alle 20 reti stagionali e in cui raggiunge la finale di Champions League nel 2013. Ma ben presto deve cominciare a fare conti con gli infortuni, che da lì in poi condizioneranno il suo futuro. Infatti mancherà l'appello durante i mondiali del 2014, vinti dalla Germania grazie alla rete di Mario Goetze nella finale contro l'Argentina, un altro giocatore che potrebbe benissimo rientrare tra i nomi di oggi. E pensare che durante le qualificazioni di quel mondiale ha contribuito con due doppiette, contro Irlanda e Kazakistan, e un gol contro l'Austria. Da lì in poi le sue annate si alterneranno tra momenti di grande entusiasmo come la stagione 2015-2016, la migliore in termini di realizzazioni per lui, e campionati spezzati dagli infortuni, come succede nei due anni successivi. Solamente con il mondiale del 2018, preceduto da una rottura del crociato che gli fa perdere 27 partite in campionato, comincia a ritrovare una forma costante, tanto che nel 2019 viene nominato come calciatore dell'anno in Germania. Ma negli ultimi due anni ha sofferto ancora di qualche ricaduta e di un infortunio muscolare che hanno condizionato ancora la sua esperienza con le Vespen. Nel 2004 il Manchester United scopre a Parma un certo Giuseppe Rossi. Lo porta appena 17enne in Inghilterra, dove nell'ottobre dello stesso anno segna la sua prima rete a livello professionistico a soli 9 minuti dal momento del suo esordio contro il Sunderland. Qualche mese più tardi segna una doppietta in una gara di FA Cup. Insomma, il mondo del calcio comincia a conoscere un piccolo fenomeno. I Red Devils poi lo mandano a farsi le ossa per mezza stagione al Newcastle e poi al Parma, dove realizza 9 reti in 19 apparizioni. Ci siamo! Sembra l'inizio di una lunga carriera promettente per Pepito Rossi, con la sua accessione a Villareal nell'estate del 2007. Anche in Spagna segna nella gara d'esordio e continua a mettersi in mostra come uno dei migliori talenti italiani dell'era moderna. Dopo tre stagioni e mezzo ad altissimo livello, quindi la dirigenza del Villareal decide di trattenerlo ancora a lungo, offrendogli un quinquennale. La sua esperienza con il sottomarino giallo però sta per prendere una piega bruttissima. Nell'ottobre del 2011, a neanche un anno dal suo rinnovo, subisce la rottura del crociato anteriore del ginocchio destro. Ecco la prima sentenza, sei mesi di stop. Pepito Rossi torna, ma niente da fare, si deve arrendere ancora, questa volta per dieci lunghissimi mesi, per via dello stesso identico infortunio. Dopo otto mesi di stop, la Fiorentina decide di riportarla in Italia nel gennaio del 2013 e lui riesce a debuttare in maglia viola solamente all'ultima di campionato. La stagione seguente segna la prima di campionato e ribalta la situazione all'Artemio Franchi con una tripleta alla Juventus. Rimonta e vittoria per i viola, che in casa mancava da 15 anni. A gennaio 2014, quindi a un anno dal suo arrivo, è capocannoniere della Serie A, ma la sua corsa viene spezzata da un'entrata malefica di Rinaudo, in una gara di campionato contro il Livorno. Distorsione di un legamento allo stesso ginocchio. E in estate un infortunio ammenisco durante un allenamento. Niente da fare, il ginocchio destro ne ha subite troppe e un giocatore del genere con una tale affinità per il gol deve arrendersi all'idea che la sua carriera non potrà mai più decollare. Chissà cosa avrebbe potuto dare a livello di club e come avrebbe potuto aiutare la nazionale italiana con dei legamenti intatti. Nel 1996 Liverpool lancia in prima squadra un giovane 17enne cresciuto nella sua academy, Michael Owen, uno dei più forti prospetti della Premier League che già nel 1998 riesce a mettersi in mostra ai mondiali con la maglia della nazionale inglese. Scavalca il nuovo secolo alla grande, nel 2001 è super protagonista nella conquista del treble di Coppa e dei Reds, FA Cup, Football League Cup e soprattutto Coppa UEFA. Nel 2001 conquista anche la Supercoppa UEFA e dopo un'annata da protagonista, a soli 21 anni, vince il pallone d'oro. Ancora parecchi anni di successi davanti a sé e fino al 2004 può ritenersi fortunato di aver subito solamente qualche problema alla caviglia che è riuscito a risolvere in poco tempo. Quell'anno, nel 2004, dopo aver vinto tutto con i Reds, tranne che il titolo di Premier decide di passare a Real Madrid unendosi a Ronaldo, Raul, Figo, Roberto Carlos, Zidane, i Galacticos, quelli veri insomma. Un'avventura che però per lui durerà solamente una stagione tra alti e bassi concludendo comunque con 16 rispettabilissime reti tra Liga e Champions League. Allora torna in Inghilterra nell'estate del 2005 per provare a mettersi nuovamente in luce con la maglia del Newcastle in vista dei mondiali del 2006. Maledetti mondiali per Michael Owen perché subisce la rottura parziale di un crociato in una partita contro la Svezia a soli 26 anni. L'operazione poi si risolverà con un trapianto e lui rimarrà fuori combattimento per un anno. Da lì in poi i tanti piccoli problemi fisici tra tendini e adduttori condizionano le sue due ultime stagioni a Newcastle che nel 2009 si concludono in maniera disastrosa con una retrocessione. Nel 2009 Owen ha appena 31 anni e sembra già sul viale del tramonto. Lascia così scadere il suo contratto per non andare a giocare in seconda divisione e lo United ne approfitta e decide di ingaggiarlo e lui indosserà la numero 7 appena lasciata da Cristiano Ronaldo partito in direzione Madrid e con i Red Devils seppur massacrato dai tanti problemi fisici vince il tanto agognato titolo di Premier nel 2011 e si ritirerà nel 2013 dopo qualche apparizione con lo Stock City a 34 anni. Quando un calciatore subisce un infortunio pesante rischia di sprofondare nel buio se la sua mentalità non gli consente di rimanere a galla e lottare con le unghie e con i denti per un pieno recupero. Lo sanno bene i quattro calciatori che abbiamo appena visto e lo sa bene Pato che oltre a dover recuperare fisicamente deve anche sopportare un peso mentale in quanto accusato di avere una soglia del dolore troppo bassa. Dopo le voci che si stanno scatenando dall'altra parte dell'oceano per la nascita di un nuovo fenomeno che all'età di 17 anni stupisce tutti con la maglia dell'International esordendo con un gol tre assist e nua traversa nell'agosto del 2007 la Milano sponda rossonera è euforica e la squadra composta già da stelle come Cacca, Ronaldo, Cafu e Pirlo sta arrivando un baby fenomeno brasiliano brillante. Ma i rossoneri dovranno aspettare il nuovo anno quindi la maggiore età di Pato per il tesseramento ufficiale. Dopo due anni in cui si impone come uno dei giocatori dal maggiore livello tecnico in Europa sfiorando i 60 gol però nel 2010 il nome di Pato diventerà sinonimo di infortunio. Stiramento alla coscia, lesione all'aduttore, distrazione al bicipite femorale tramutata in lesione, due infortuni alle caviglie, tutti incidenti che nelle sue ultime due stagioni rossonero li faranno accumulare solamente 15 presenze. A 23 anni quindi deve cominciare a fare conti con una carriera che con ogni probabilità è già in parabola discendente. Uno sforzo mentale enorme per un giocatore così giovane che nel 2013 decide di tornare in Brasile prima al Corinthians e poi al San Paolo. Saranno due parentesi fortunate per lui in cui ritrova anche la confidenza con la rete e si guadagna quindi la chiamata del Chelsea nel 2015. Ma con i Blues accumulerà la miseria di due apparizioni, poi partirà per il V-Real, poi per la Cina e poi tornerà a San Paolo. Pato, una stella che ha brillato per troppo poco tempo che nel giro di pochi anni è dovuto arrendersi all'idea di non poter più calpestare i prati del calcio che conta. Questi erano cinque giocatori le cui carriere sono state condizionate in maniera significativa dagli infortuni. Ve ne vengono in mente altri? Se sì fateci sapere i nomi nei commenti qua sotto, mi raccomando lasciate un like a questo video se vi è piaciuto ed iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Questo era il vostro Davide che ora vi auguro una buona giornata.